Buongiorno a tutti, mi chiamo Tizia Lasola, mi occupo di counseling e di gruppi di meditazione e nel contesto del nostro lavoro insieme vi porterò a sperimentare delle piccole pratiche di rilassamento corpo-mente. Lavoreremo sul corpo e sulla mente perché se non riusciamo a rilassare la mente il corpo rimane in tensione e viceversa e quindi è un'ottima pratica per imparare a volerci bene proprio il fatto di imparare piccole attività che noi facciamo all'interno dei nostri gruppi ma che comunque si possono fare tranquillamente anche a casa ognuno tranquillamente con il proprio ritmo e nei momenti della giornata che può dedicare a questo tipo di attività. La pratica base di meditazione è assolutamente molto semplice ed è proprio il fatto di poter rimanere sempre concentrati sul respiro e sul corpo e quando la mente come succede spesso vaga e si distrae di riportarla al respiro e al corpo. Il fatto di riportare la mente al respiro e al corpo aumenta intanto sì la concentrazione e l'attenzione ma soprattutto ci permette di spostare la nostra energia, la nostra attenzione da un pensiero discursivo che magari può essere negativo o fastidioso o di spostarci da un umore più negativo a qualcosa di più nutriente per noi. Brevemente una pratica di mindfulness può essere semplicemente questo. Chiudo un momentino gli occhi, lo potete poi fare anche a casa e porto semplicemente l'attenzione al respiro. Inspiro, quindi l'aria entra, espiro, quindi l'aria esce. Mentre inspiro posso sentire per esempio che l'aria entra nel corpo e posso sentire in quali punti del corpo l'aria principalmente può essere sentita. Quando espiro posso proprio rendermi conto che il corpo si svuota, si sgonfia e che tutte le parti del corpo reagiscono all'ispirazione. Ecco, una prova estremamente semplice che io vi invito a fare, che è proprio un'attività che ci può prendere pochissimi minuti al giorno e che ci permette di entrare in contatto con noi stessi. Grazie!